Giacomo Perrotta, sei il nuovo sindaco di Scalea. Guarda, è stata una campagna elettorale molto combattuta, questo avete avuto modo di vederlo. Permettimi, come ho fatto già prima, di ringraziare Lillo Paravati ed Eugenio Enrico per l'educazione che hanno mantenuto in questa campagna elettorale. Ci aspettavamo una campagna elettorale al photo finish ma ti assicuro che non a questo punto. Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati alla pari e quindi veramente questo significa che Scalea è divisa in due. Per questo io dicevo che non ci sarà una maggioranza ed una minoranza ma ci sarà una maggioranza ed una opposizione perché chiamarla minoranza non è corretto. Quindi tra Eugenio e Lillo Paravati rappresentano una bella fetta di Scaleoti che saranno degnamente rappresentati ed insieme a loro, perché il loro aiuto sarà fondamentale, si dovrà cominciare a ricostruire Scalea, riprendendo le cose buone che sono state fatte e cercando di farne altre. Pochi minuti fa l'abbraccio con la moglie di Palmiro. Sì, l'abbraccio con Emilia perché è dovuto. Questo Scalee Europeo è una creatura di Palmiro, è un sogno di Palmiro che si è realizzato e noi abbiamo fatto tesoro di quella che è stata la sua politica e quindi noi cerchiamo di mandarla avanti con un'attenzione all'ambiente, con un'attenzione al sociale, con un'attenzione alle fasce più deboli. Con l'aiuto di tutti spero, sono sicuro anzi, che Scalea ce la può fare. Sarà l'inizio di una nuova era? Sarà l'inizio di Scalea, diciamo. Torniamo, questo è il nostro slogan, ma sarà un nuovo inizio. Quindi dobbiamo voltare pagina, ti ripeto, con l'aiuto delle opposizioni ma soprattutto con l'aiuto degli scaleoti perché la politica deve stare in comune per sbrigare le faccende burocratiche ma deve uscire, deve andare in mezzo alla gente a raccogliere le esigenze della gente e la gente deve cominciare a venire in comune non soltanto per fare la fila per i tributi ma per fare avanti le proprie istanze che la pubblica amministrazione ha il dovere di risolvere, non un piacere, ha il dovere di risolvere. Una curiosità, dove hai aspettato lo spoglio? A casa di un candidato Sant'Angelo, quindi siamo andati in campagna, avevamo aria pura, abbiamo respirato e quindi adesso andremo a festeggiare e poi subito al lavoro. Grazie Massimo. Ultima cosa, tu hai detto pochi minuti fa io sarò il sindaco di tutti. Questo lo sentite da tanti anni ma è la realtà, così dovrebbe essere anche laddove Scala Europea avesse perso, io sono sicuro che Lillo Paravati o Eugenio Enrico sarebbero stati i sindaci di tutti ma così deve essere, io non posso e non devo fare preferenze per chi ha votato Scala Europea o chi non ha votato altre liste, assolutamente no, le porte del comune sono aperte e questo mi conosci, lo sai, per formazione, non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno e non comincerò certo adesso. Pochi secondi fa mia figlia ha detto ma ha vinto Achela, è diventato sindaco Achela. Ha vinto Achela, per chi non doveva sapere Achela, la mia formazione è una formazione scout quindi sì, ho rivestito il ruolo di Achela, Achela era il lupo, il lupo che seguiva dall'alto gli altri lupi, ovviamente qui non c'è un lupo che segue dall'alto gli altri lupi ma uno tra gli altri che vuole far bene per il suo paese. Grazie a tutti.